Domenica in con Mara Venieri, oggi 11 settembre 2022, che è la puntata su Rai 1, quando inizia, nuova sigla, orario, ospiti prima puntata La prima puntata della nuova edizione di Domenica in, condotta da Mara Venier, andrà in onda oggi 11 settembre O Rai 1 ha deciso di posticipare ancora l'inizio della stagione 2022-23? Scopriamo tutti i dettagli Leggi anche, la regina Elisabetta era una vera femminista? Storia e contraddizioni di una donna privilegiata al potere Domenica in oggi, quando inizia? Data prima puntata, orario i telespettatori possono mettersi comodi La prima puntata della nuova edizione di Domenica in con Mara Venier andrà in onda, ufficialmente, oggi domenica 11 settembre 2022 Ma qual è l'orario di inizio? Come ogni anno, l'appuntamento con la Domenica pomeriggio su Rai 1 è a partire dalle 14 Le parole di Mara Venier dopo 14 anni a Domenica in Mara Venier, durante la conferenza stampa dedicata alla nuova edizione di Domenica in, ha commentato così 14 anni al timone del noto programma di Rai 1, Domenica in prima puntata Chi sono gli ospiti? Mara Venier ha svelato, inoltre, alcuni degli ospiti della prima puntata di Domenica in in onda oggi 11 settembre 2022 Ecco di seguito i nomi confermati, Loretta Goggi e Alberto Matano la sorella di Alessandra Matteuzzi E voi siete pronti per la nuova edizione? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news sulla puntata di oggi 11 settembre 2022 di Domenica in Chi sono gli ospiti della prima puntata, qual è l'orario di inizio e tutti i dettagli in merito Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!